Invenzioni di voi donne per rovinare gli uomini, adestato sdegno e scalpore, commento sessista apparso sulla nostra pagina Facebook riguardo la notizia della presunta violenza sessuale ai danni di una giovane di Sulmona che sarebbe stata perpetrata da un 44enne del Posto. L'autore del Post, un utente che commentando la notizia ha ritenuto che la storia raccontata dalla vittima sia il frutto di una fantasiosa ricostruzione ai danni della categoria maschile. Si sono quindi scatenate una raffica di reazioni per quel parere, così lo definisce l'utente in questione, del tutto fuori luogo. Le cose vanno chiamate con il proprio nome, commenti come questi non possono essere tollerati se davvero si vuole cambiare paradigma e approccio culturale verso il fenomeno della violenza sulle donne che sia sessuale o di altro tipo. Come operatori dell'informazione, impegnati in prima linea a raccontare fatti di cronaca anche gravi, ci sentiamo di stigmatizzare questi atteggiamenti, ricordando pure che la pluralità delle opinioni è ben diversa dalle offese a tutto campo. Non tocca ai leoni da tastiera accertare la solidità del quadro probatorio, a questo ci penseranno gli organi inquirenti. La Procura per quella violenza denunciata in una villa sul Monese d'inizio febbraio ha chiesto al giudice per le indagini preliminari di fissare l'incidente probatorio, proprio per cristallizzare il racconto della vittima.